Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Ho deciso di fare un video che raccontasse un attimo la mia esperienza con il covid a dicembre. In realtà si è allungato un po', capirete perché. Allora, è iniziato tutto, il 22 dicembre sono stata male con dolori muscolari, nausea, vomito e febbre a 37 e mezzo solo il 22 sera. Poi devo dire che sono stata abbastanza sintomatica, ho portato avanti un po' di tosse, però devo dire che grazie alla scelta che ho fatto di seguire le cure domiciliari, quindi ho preso cortisone e antibiotico che ho già smaltito e ho cominciato un programma di disintossicazione, quindi devo dire che quello spero di aver già smaltito e ho portato avanti ovviamente anche dei rimedi naturali, tra cui su fumigi con oli essenziali di origano e di timo, ho portato avanti anche il continuo, ho continuato ad usare i miei integratori che uso tutti i giorni, ho usato miscele respiratorie durante il giorno e durante la notte, quindi la sera prima di andare a letto, ho usato il mio olio di incenso sotto i piedi, veramente ho usato un po' di tutto e come dico sempre non è una scelta o medicinali o rimedi naturali, quindi ho usato entrambi. Quindi ho portato avanti appunto un po' di tosse che però già da una settimana è scomparsa del tutto, per cui questo è come ho iniziato, ho iniziato grazie a un tampone che risultato positivo al 23 dicembre, ho iniziato appunto il mio isolamento. Quei dieci giorni sono andati avanti e in teoria dopo dieci giorni quello che avevo letto, che dovevo fare, dovevo tornare in farmacia per il tampone finale e finì concludere il mio isolamento. Abbiamo fatto così, sia io che mio marito eravamo entrambi positivi, ma il farmacista ci ha mandati a casa e ha detto no, voi siete risultati positivi con un tampone, dovete ricevere comunque un tampone, la richiesta dell'ATS per un tampone molecolare di terza generazione addirittura, aveva detto. Poi le cose sono cambiate, continuano a cambiare tutti i giorni e vedete come poi è conclusa la cosa. Quindi siamo tornati a casa dopo dieci giorni, che il farmacista ci ha detto torna a casa, non è possibile farlo qui e abbiamo aspettato, l'agonia era l'attesa, l'attesa non sapevamo a chi rivolge, ci abbiamo perso un sacco di tempo al telefono, centralini vari, numeri verdi, nessuno ci ha potuto aiutare, nemmeno il nostro medico curante. Quindi siamo arrivati a ventunesimo giorno, a qualche persona che conosco è arrivata automaticamente l'attestazione di fine isolamento, ho detto arriverà anche a me. Niente, 21, 22, 23, 24, niente. Il 17 gennaio finalmente da internet leggiamo che possiamo andare in farmacia, anzi possiamo e non dobbiamo pagare il tampone con il certificato dell'attestazione di inizio isolamento, per me era il 23 dicembre, comunque ci siamo recati in farmacia e il farmacista, lo stesso farmacista tra l'altro, ha detto sì 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 le cose sono cambiate, ho dovuto mandarvi a casa dopo dieci giorni, ma adesso con il ventunesimo giorno passato potete fare il tampone. L'abbiamo fatto, non abbiamo pagato e siamo risultati negativi. Tornate a casa abbastanza contenti che eravamo negativi, anche se io sentivo che mi ero negativizzata già da qualche giorno, se non settimana, arrivate a casa, aspettiamo ancora per il green pass e per la documentazione del fine isolamento. Mio marito è arrivato, è tornato al lavoro, a me niente, quindi ancora attesa, fino a, pensate, ieri mattina che era il 19 di gennaio, mi è arrivata una telefonata da un operatore dell'ATS che mi dice lei è ancora positiva perché risulta che lei è positiva. Io ho detto no, ho fatto il tampone al 17 lunedì e lui mi ha chiesto vabbè il referto, io l'ho spedito via mail e finalmente mi è arrivata la fine, fine isolamento ieri 19 gennaio, immaginate quasi un mese, quindi è stato un mese un po' complicato, abbiamo concluso l'anno, iniziato l'anno burocraticamente con tanta confusione, ecco. Le cose continuano a cambiare e cambieranno ancora immagino, quindi spero di essere un piccolo aiuto per chi è nei, in quella situazione, chi è positivo in questo momento e ha bisogno di risposte o di consigli, anche se ripeto le cose cambiano ogni giorno. Quindi stamattina mi è arrivato anche il Green Pass e sono contenta che veramente tutto si sia concluso. Conclusioni di questa mia esperienza con il Covid. Quello che voglio dire è che l'atteggiamento mentale, come ho detto anche durante alcuni miei video su Facebook, l'atteggiamento mentale è stata la chiave per me. È stata triste trascorrere il Natale da sole, in famiglia, cioè a casa e non con i parenti, quindi i nonni, zie, cugini, vari nipoti. Però devo dire che l'atteggiamento mentale veramente mi ha aiutato, perché questo influenza il nostro corpo, ok? Quindi sempre positivi. Continuiamo a vivere la nostra vita tenendo alto anche i nostri ideali, tenendo vivi i nostri sogni, i nostri progetti di vita, perché dobbiamo avere la speranza che tutto andrà meglio, ok? E mi piace concludere questo piccolo video sulla mia esperienza Covid usando le parole del protagonista di un film che a me è piaciuto tanto, ha vinto tanti Oscar, parlo di Forrest Gump, con le sue parole appunto che diceva e non ho altro da dire su questa faccenda. Ciao!